Suonerà puntuale la prima campanella del nuovo anno scolastico alla scuola media San Francesco d'Assisi di Tezze sul Brenta, i cui lavori di costruzione, arredo e messa in opera sono ormai conclusi. L'istituto verrà inaugurato sabato mattina e lunedì gli studenti potranno viverlo a pieno. Con grande orgoglio che noi inauguriamo questa struttura a servizio dei nostri giovani che sono il futuro della nostra società. Il percorso che porterà alla nascita della nuova scuola dedicata al santo patrono d'Italia non è stato facile visto quel che è successo negli ultimi anni e visto anche quel che sta ancora succedendo. Ci ha costato sacrificio, ci abbiamo messo tanto impegno, abbiamo superato tante difficoltà dal punto di vista economico, la pandemia poi due anni che ci ha rallentato, ad ogni buon conto tutto è bene quel che finisce bene, adesso alla comunità di Tezze, ai cittadini di Tezze e soprattutto quelli del futuro, noi regaliamo, doniamo, diamo, mettiamo a disposizione questa bellissima struttura. Un investimento complessivo da 4 milioni di euro, dei quali 1.800.000 sono arrivati grazie a un contributo ministeriale. Un investimento che proseguirà con un secondo stralcio altrettanto impegnativo. Per ora però è importante che studenti e insegnanti sfruttino a pieno il nuovo istituto dotato di una sala mensa e reso decisamente verde da una dotazione di piante ed essenze. Una scuola altamente tecnologica e curata nei miei dettagli, anche soprattutto dal punto energetico. Una scuola che anticipa i tempi bui e freddi che minacciano l'immediato futuro, grazie a un sistema energetico e di riscaldamento indipendente. Ci sono 40 kilowatt di fotovoltaico, 14 sonde geotermiche e poi si è curata subito dall'aspetto dal sottosuolo dove ci sono dei glue ventilati per ovviare al gas radum.